Finalmente da oggi a Sassa è in funzione l'impianto semaforico intelligente per disciplinare la viabilità all'interno del centro della frazione, congestionata dal continuo passaggio di mezzi pesanti e da una popolazione con automobili aumentata notevolmente dopo il sisma. I cittadini nel corso degli anni più volte avevano chiesto interventi all'amministrazione e in un'assemblea pubblica si era optato per questa soluzione, progetto iniziato nel corso del primo mandato biondi e terminato ora. Semafori intelligenti perché sono in grado di captare il volume di traffico in quel momento, ne sono posti due, uno all'ingresso e uno all'uscita della strettoia, più altri nevicoli che si mettono nella strada principale. Una scelta importante anche in vista del futuro per la viabilità di Sassa cambierà volto anche quando verrà realizzato il nuovo polo scolastico che andrà a sostituire i MOSP attualmente esistenti. Oggi grazie va all'amministrazione, a quella del primo mandato che si è fatta carico di questo progetto e a quella di oggi. Il problema della strettoia di Sassa soprattutto dopo il terremoto era diventato insostenibile e quindi oggi sì abbiamo raggiunto davvero un grande traguardo grazie ancora a questa amministrazione.